ok allora è andato tutto a meretrici ok un pochino di vita male non ci fa e non ha fatto una bella fine ora qui c'è estremamente buio a f per la torcia la famosissima f di torcia è sciopato tutto ma proprio tutto bini scienziati che dite per il gatto di schroding ma perché per il gatto di schroding si capo ma prima che ce la farò a salire in superficie sarà un bel problema yet crab si capo dai alaia facci passare allora oh porca paletta passiamo stealth no eh io sono stealth ah forse era meglio aspettare aia che male non me lo ricordavo che facesse così male puzzettala qui ci sono i primi zombie che vanno a fuoco io al momento non ho neanche armi non ho niente mi servirebbe almeno il piedino di porco via 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 apriti sedano ok allora passiamo così ovviamente sono tutti morti possiamo prendere un cacciavite ti salvo io ti salvo io voglio vedere come reagiscono la mia cassetta degli attrezzi vabbè andrò con questo bene anche quelli sono morti poi tanto come abbiamo già capito tutti sono tutti morti alura torcia ecco bravissimo Gordon e sono cugini di campagna dai vieni con me vieni con me perché qua spara 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 non posso fargli niente io vieni con me perché io al momento non posso fare niente a nessuno li posso al massimo guardare dai spara ah questo si è acceso oh avrei bisogno di un po' di vita di un'arma te stronzi di un big mac ho un massaggino ah quelli lì sono i cosi della tuta non della vita altro bengala visto che colpo guarda è proprio il momento di giocare a chi riesce a colpire meglio aspettami lì Giampiero e vai fatti sotto urca vacca che botta ole strunt ole il piedino di porco ce l'abbiamo e questo sicuramente ci dà una mano ok tu sei morto bello che ha messo l'animazione della corsa no amico non morire non morire ti salvo io aspetta la manovra di non mi ricordo dell'autobus vai si fa così se fai così dovrebbe ritornare in vita no mi sa che non funziona proprio così intanto ci curiamo un po' tu vai al tuo posto grazie tu sei vivo? no c'è qualcuno di vivo qui? questo è per me 29 è l'altapicat 25 però va bene comunque questo? e vai allora io di qua ci sono arrivato però posso andare di qua quella cioppa e ma come si sale? ah si è anche a te porca di quella vacca no 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 e vai su va bene io molte cose non me le ricordo più però sto posto è veramente fantastico miglia gli è caduta pure la scala in testa che culo c'ho un occhio ti ributto sulla roba questo è un polmone mi sembra questo è il cuore il cervello poi guarda come sono vivi sezionati bene questo che cazzo è? il cranio uh questi merda me le ricordo questi che scoppiano vai giù porca vacca sti qua che fanno non è che scoppiano fanno un ultra suono fastidiosissimo che non ti fa capire più niente per ora ce n'era solo uno ed è stato facile per quando arrivano in tipo 6 o 7 diventa una bella merda allora bella l'animazione della corsa mi piace proprio tanto ah no ti fotti ah c'era un headcrab eccolo ok l'ho preso e mori un po' vaffanculo mori non riesco a prenderlo ok lì dentro c'è un altro ma ci può anche restare struns ah devo tenere premuto e fatevi capire allora lì si è aperta la stanza ehi sì 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 andiamo 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 perché questo qua in inglese ask scientist to follow vieni vieni poi ti uccido vieni vieni poi ti uccido eh volevo dire poi ti salvo mi porti con lei dove dobbiamo andare però cioè in realtà il gioco è abbastanza su binari quindi non è che ci sia molto da scelta befana ah cagare non rompermi le balle ok easy qui dentro sì grande apri 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 ho fatto bene a portate con me oh oh granate pistola ma che è tutta sta roba due sul due abbiamo la pistola l'avevo detto che lo uccidevo almeno non soffrirà è stato molto gentile ma tanto non poteva sopravvivere e di certo non potevamo accollarcelo quindi questa serie la chiameremo morgan freeman lo stronzo vabbè comunque l'avevo promesso che l'avrei ucciso quindi non vedo perché non mantenere le promesse torniamo un attimino giù di sotto che forse giù di sotto dove dobbiamo andare io sinceramente non me lo ricordo ora quello aperto di tutte e due ah si è aperta la stanza qui ok questa stanza me la ricordo va bene stiamo andando dalla parte giusta te t'ho visto salta te stronzo porca miseria quanto lo odio quello ma brutta merdina che non sei altro ma brutta befana ok questi scienziati sono dei geni del cazzo tranne no tranne che per salvarsi per quello non sono capaci muoiono tutti come degli imbecilli ok che non hanno le armi e io e lì posso anche capirli senza le armi è un bel problema però sono proprio imbecilli sono missioni schifo non mi fanno allora andiamo giù qui ci sono questi diamogli questo da mangiare bravissimi mangiate ah ci sei anche tu eh dai ok c'è un'altra ancora ok mi dà un fastidio che fanno i rumori anche dopo che sono morti allora devo riprendere questo darlo a questo e non c'è una cippa di qua di qua neppure e allora evidentemente dobbiamo andare di qua esatto ok aumenta l'acqua va bene ma adesso che c'è l'acqua non abbiamo problemi esatto va bene io come livello di difficoltà ho scelto quello normale che sarebbe quello più basso perché effettivamente non mi ricordo quanto fosse difficile quindi io lo lascerò a normale potevo probabilmente giocarlo anche a livello black mesa che era subito dopo il normale però per il momento non è difficilissimo però siamo anche solo che all'inizio giù su giù noi teoricamente dovremmo salire invece stiamo scendendo guarda io qua mi ricordo forse esatto oi andatevene giù a cagare ma che cazzo sei mannaggia sti cosini piccini bravo vola giù ok muore anche tu muore anche tu muore anche tu la peppa quanti sono non 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 Grazie a tutti.